E io non capisco, Presidente, come ancora una volta ci sia blindati dietro un decreto legge e proprio come il vostro Presidente della Repubblica, al quale mi appello ancora oggi per onnesima volta, si blinda dietro l'immunità presidenziale, non concedendo l'apertura degli archivi della Presidenza della Repubblica Non roviniamo tutto verso la fine del suo intervento, la richiamo a non intervenire su questo argomento. Grazie a tutti